Ok, commetano partito dopo essere atterrato alla base di lancio fa il rapporto tabile Siiiii Sii ragazzi Finalmente abbiamo sbloccato le battle royale classico Dio mio ragà mi mancava tanto Ora sto andando a fare una missione Dobbiamo atterrare a base di lancio Se stanno facendo tutte le missioni Penso che ci atterreranno in tantissimi Quindi sarà un delirio Ci vediamo dopo Scusate che sono atterrato di merda No, no, dai Vabbè ci sarà tantissima gente a base di rancione Soprattutto perché è anche zona arancione Quanta gente ci sarà? Da 1 a 10? Tantissime Vabbè però in teoria se ci facciamo ammazzare subito Abbiamo già completato una partita Ma raga non è il nostro obiettivo Ok Siamo atterrati a base di lancio Luttiamoci bene a sto posto ragazzi Oh esperto di balistica Assolutamente si Che bello ragazzi Che bello Ah finalmente tranquilla Però con Alcatraz ragazzi Devi solo più traiardare Perché se no Ha il suo perché pure Alcatraz Ovviamente ieri mi sono incavolato Ragazzi scurci penso E' impossibile che non ci sia qualcuno Infatti No raga mi ha sciolto Mi ha sciolto Mi ha sciolto Mi ha sciolto Sono morto Morto Mamma mia raga mi ha sciolto Drone Mamma mia raga Il drone Forse riusciamo a fare una bella giocata Drone Eccolo Eccolo Vai drone No No raga ma che arma di merda Non c'ho armi Non c'ho armi Guarda non muore Questo qui Oh E che cavolo Oddio Ecco l'amico L'amico Aiuto Madonna raga Se sopravvivo No non sopravvivo Mamma mia raga Qualcun altro Qualcun altro Mamma mia raga Ce la siamo giocati bene Dai Mamma mia Il drone è tanta roba Ok No abbiamo le stesse munizioni Per tutte e due le armi Che nervoso Quando succede Ok ragazzi Penso che a base di lancio Non ci sia nulla Da fare come missione Dovevamo soltanto Atterrare a base di lancio Ragazzi A Isola Ted Però comunque Penso che Madonna Proprio centro safe Buono buono Cavolo Mamma mia Allora Andiamo verso gli airdrop Andiamo verso gli airdrop Chi ha Chi ha Chi ha Da dove Guarda sto Stanno entrando i colpi Aveva il GKS Ecco perché Il GKS E tanta roba ragazzi Ma perché trovano Perché loro le trovano le armi Io no Ovviamente Centro zona Ma arriveranno Tantissima altra gente Oddio L'airdrop L'airdrop Vieni da me Vieni dal tuo papà Vieni dal tuo papà Fammi guidare Dove è il drop Oh dietro di me Dietro di me Che cazzo sto a fare Bene Scusa Scusa Oh Ti investo Ho investito con la macchina L'ho investito con la macchina Oddio Aspetta che Che ma ci viene a picchiare Brutto brutto Andiamo dall'airdrop ragazzi Andiamo dall'airdrop Dove è l'airdrop? Airdrop Ah eccoti eccoti Airdrop Vieni qui dal tuo papà Mo investo qualcuno con la macchina Mi sa che ho visto qualcun altro Però un po' lontano Vabbè Devo sbrigarmi? Che merda Che merda Airdrop spiegato Allora vogliamo Un attimo andare dal boss Lancio aereo No Io aspetto solo il tank Io aspetto proprio quel tank Anzi no ragazzi Il tank è Un po' rischioso Anzi sai che vorrei fare ragazzi? Vorrei aspettare che qualcuno vada ad uccidere il boss Almeno Oh Chi mi ha sparato? Da dietro Chi è? Dov'è? Ti sta a sparare quello lì? Ti stava sparando Arctic 50 Questo è mio È a posto della GKPS ragazzi Sì sì A posto della GKPS Airdrop E abbiamo una moto? Mamma mia ma Andiamo 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 ragazzi Andiamo andi ragazzi Andiamo Drone non mi scadere eh Per cortesia Riesce a starmi dietro? Bravo moto Brava Brava moto Stammi dietro Drone stai con me sì? Drone Dai drone Macchina da guerra Raga ma Ma che cavolo Sti airdrop Che droppano soltanto Armi di M Ma dai Raga Questo si chiama Oh cazzo Oh cazzo Da dove? Da qua Ecco quando serve il drone Non c'è Dov'è? Eccolo Eccolo Ma raga Mi stascio Oddio Che cazzo sto a prendere Ciochino Morto 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 Ragazzi Morto Ecco morto Morto eh Vabbè raga Me la so giocata bene Comunque Sono sceso a base di lancio L'ho fatta la missione Ora Ovviamente Non Non speravo di vincere Perché non stavo così tanto Cioè stavo un po' Trajardando Sì Però ragazzi Io battle royale Come sapete Non sono una mina Però sono sceso a base di lancio Me la sono lottata pure bene Quindi adesso dobbiamo andare a fare il rapporto al club Felice di rivederti soldato Stato le informazioni che hai raccolto Potremo avere l'opportunità di distruggere il satellite MP con un missile Guarda giù sul posto per raccogliere informazioni Questo potremo dare la fattibilità Hai fatto davvero un ottimo lavoro Alla prossima missione Grazie Grazie Allora vediamo un po' Abbiamo fatto pure la terza missione ragazzi Riscattiamo Riscattiamo tutto Ovviamente Allora Principale Principale ce n'è un'altra Fai rapporto ad Adler Ho riscattato tutto Bene abbiamo finito Abbiamo finito Ora ragazzi Mi sa che lui c'ha un piano Lui ha un piano Parliamo con lui Ricorda che si fa sempre Prima passare la pistola Per tutto che ricaricare Bene Non ha niente ragazzi Non ha nulla Nulla Bene abbiamo completato le tre missioni ragazzi Spero che questi due video Dove andiamo a fare queste missioni ragazzi Vi siano piaciute di questo nuovissimo aggiornamento super galattico ragazzi E' stato bellissimo Lo so che vi sono usciti moltissimi video di coding in questi ultimi giorni Ma ce n'era proprio bisogno Io vi lascio qui nel club Un saluto a tutti ragazzi Alla prossima Boom Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima